1.300 ispezioni ad attività produttive, commerciali ed esercizi pubblici dell'Italia meridionale. Vasta operazione dei NAS che hanno riscontrato irregolarità in 390 casi, il 31%, e accertato 634 violazioni alle leggi di settore, di cui 80 penali, con sanzioni amministrative pari a 630.000 euro. Nel corso dei blitz sono state poi sottratte al consumo 280 tonnellate di alimenti vari e sono state chiuse 48 strutture. In particolare il NAS di Reggio Calabria ha posto i sigilli in un supermercato a due celle frigo in pessime condizioni igieniche, completamente invase da ruggine e muffe anche sulle scaffalature, portato via una tonnellata di alimenti scaduti da 5 anni e visibilmente alterati. A Taranto, invece, i carabinieri hanno proceduto la chiusura per gravi carenze igieniche e inadeguatezze strutturali di 6 attività e al sequestro di uno stabilimento vinicolo, risultato privo di autorizzazione allo scarico dei reflui. Plauso dal ministro Lorenzin che annuncia tolleranza zero per chi attenta alla salute. Intanto la Coldiretti rivela che sale al 71% la percentuale di italiani in allarme nel 2013 per le alterazioni, le contraffazioni e le falsificazioni dei prodotti alimentari. Una crescita dettata dalla crisi che ha determinato un forte taglio alla spesa alimentare delle famiglie le quali si affidano ai cibi low cost con minore garanzie di sicurezza.